Seduto Legge attento le istruzioni su distributore del caffè Ed un bambino che è su tu dentro ad un bambino E l'orologio contro il muro segna l'una e dieci da due anni in qua L'uomo di questa stazione è mezzo cancellato dall'umidità Un poster che qualcuno ha già scarabocchiato dice vieni in Tunisia C'è un mare di velluto ed una palma e tu che sogni di fuggire via Pientare 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 Oh no, oh no Oh no, oh no Sei lì che aspetti quello della sette e trenta Chiuso dentro il tuo baltò Seduto sopra una panchina fredda del metro Grazie Grazie